Ciao a tutti, come vi prometto, siamo dentro del pubblico di Fausto Colato e sono qui con il manager di produzione, Daniele. Ciao Daniele! Buongiorno! In qualche seconda volta seguiremo i passaggi di questa produzione inizia da qui, nel cuore di Milano. Come potete vedere qui, potete trovare cittadini di letteri finissimi colori. Daniele, diciamo un attimo come avviene il processo di produzione. Il processo di produzione avviene partendo dal taglio, che c'è Marco, e tagliamo, ad esempio, questo è il titone che viene tagliato. Ok, questa è la fase del taglio. Qui è Marco, e vi mostrerà come poter tagliare la lettera. Questa è una fine lettera, di Python. E questo è il titone? Questo è il titone, sì. È un front cut, in questo caso. Questa è la trancia. Questa è la macchina di tagliamento. E questa è la forma che si tagliato, dopo di che, passiamo due Romeo all'assemblaggio e alla scarnitura della pelle. Quindi, si mettono insieme le pelle che si tagliato prima. E potete vedere qui, sulle tavole, tutte le dimensioni delle pelle. Quindi, perché, sai, Fausto Colato è ben conosciuto nel mondo per le pelle, le pelle, le pelle e gli accessori. Quindi, qui troviamo, finalmente, Romeo cosa sta facendo? Adesso Romeo va a scarnire la pelle. Scarnire, Passi la scarnitura. Ok. Si mettono, ora, la macchina è fuori, perché del ruolo. Esatto. Quindi, si mettono, si mettono, si mettono, la pelle, il python. Si mettono, si mettono, si mettono, si mettono. Si. Si mettono, e poi, qual è il prossimo step, Daniele? Qual è il prossimo step? Il prossimo step è, l'incollaggio del pitone, che avviene, tramite questa pressa, dove c'è la nostra Maria. Ecco la qua. Questa è una schiera di cocodrilo. Questa è una schiera di cocodrilo. Questa è la schiera di cocodrilo. E qui abbiamo, questa bella, che è Maria, dove incolla la pelle del pitone. Si mettono, con la colla, Python, insieme. Questa è una macchina, Daniele, che fa... Questa è una macchina, che ha sempre la stessa funzione, che va a pressare, a schiacciare, con la giunta. con la colla. con la colla. Siamo a due passi. Ok. Thank you Maria, for showing us this. After this step, andiamo a vincolare le cinture, che è sul fondo. e, in fine, we're gonna, we're gonna, at the end, we're gonna, fix, and make glue, to the belts, they produce. So, you see, there are, many, rooms for storage. And I think, this is the place, isn't it? Questo è il posto dove incolliamo, vero? Dopo aver aggiuntato le cinture, qua vengono incollate, e assemblate tra di loro, la parte sopra, la parte sotto, quindi gli diamo il corpo, il corpo della cintura, viene incollato qua. Ok, this is Romeo, that is gonna show us, how to, put together a belt, no? Questa è una pelle di antilope, africana. How we say antilope in English? Eh, kudu. Kudu, this is a kudu leather, and, this is the process through, through weed, we, we, we can, we glue the belt, that's very interesting, thank you Romeo, and, thank you Daniele, and, in few minutes time, we are gonna, meet the boss, of course, Fausto Colato. Ok, ah, yeah, I forgot, here, there is, a manager, hi, can I know your name? Marisa. Marisa, she's in charge, with the, production quality, controller quality, and, super manager, supervising all the production, ok? so, see you in a while, and, so, we're gonna have a little chat, with, Fausto Colato, for friends Paki. Thank you, bye! Buon lavoro ragazzi! Ciao! Ciao!